principalmente perché io in casa ho un ragazzo disabile che sarebbe mio zio quindi ho vissuto la maggior parte del mio tempo con lui da sola poi portandolo in casa famiglia stando lì ho capito che era al posto mio non mi aspettavo di poter apprendere tante cose ero partita con una bella figura di due lezioncine così che vuoi che siano invece ho trovato professori fantastici a me l'ho insegnato tantissimo bene bene valeria anche fantastica mi rispondeva sempre qualsiasi cosa sempre carina educata i professori sono stati tutti i bravissimi professionisti ho svolto in rsa ad aprilia posto fantastico un'equip che andava d'accordo se pazienti amati proprio abbracciati coccolati è stata un'esperienza fantastica paziente affetto d'alzheimer perché il mio ideocinio è stato concentrato soprattutto in questo avuto a che fare con pazienti affetti d'alzheimer formativa un po estenuante e bella consiglierei la training academy per la formazione professionale